Si chiama Cassandra Benson, è una bellissima ragazza di 23 anni d'età, la quale ha fatto una scoperta davvero incredibile, infatti attraverso un semplice controllo di Giulia Irene ha scoperto che per l'appunto ella possiede ben due ragioni e due uteri, molto seguita nei social per la sua invitante bellezza, la sua sensualità, ma anche per questa sua caratteristica molto rara, ha risposto ad alcune domande dei suoi fan, ha rivelato che entrambe le sue ragioni sono leggermente più piccole della media, più delicata alla situazione di cari sentimentale, Cassandra spera di trovare un partner aperto e comprensivo, su alcuni insomma in grado di rispettare la sua natura che ella stessa possiede. Le due ragioni non hanno preco insato, molto su sfera affettiva, ma hanno reso il periodo mestruale ovviamente più complicato del normale, con due settimane di dolori, crampi e a volte la costringono addirittura ad essere ricoverata in un ospedale. La ragazza dichiarò disegnare la maternità e che altrettanto con la stessa condizione sono state in grado di partorire in modo tutto naturale, ma c'è una possibilità che abbia bisogno di una fecondazione artificiale, sono preoccupare di come la prenderemo il prossimo partner, dice la donna, fare il sesso per chi ha due ragioni, è sempre molto 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 doloroso, mi avrebbe detto. Pensate anche a una famosa youtuber, nei suoi tutorial che sono presenti su youtube, la fanciulla si occupa di rimedi per l'acne, tipo i giugoli, la ragazzina ne ha sofferto molto e per questo motivo è stata vittima di un forte volutimo. Ha tantissimi follower su Twitter e nei diversi social e i suoi fan, come la stessa avrebbe ammesso, mi sono vicino per questo suo momento veramente molto difficile e particolare della sua esistenza. Iscrivetevi, commentate e un caro saluto.